Alessi Gas Cassola, da 50 anni, al vostro servizio. Oggi la Alessi Gas Cassola SRL si presenta con oltre 50 anni di esperienza nel settore del GPL. Disponiamo di deposito di proprietà. Forniamo bombole di varie pezzature collaudate e revisionate, acquistabili anche presso il nostro deposito. Installiamo serbatoi di varie capacità, garantendo manutenzioni e collaudi di legge per un buon funzionamento in sicurezza dell'impianto, effettuando quotidianamente con nostri automezzi rifornimenti presso clienti privati, condomini, aziende agricole, soffierie, ristoranti e aziende in genere. Effettuiamo sopralluoghi e preventivi gratuiti con personale preparato e disponibile, il tutto con la massima celerità. Eseguiamo e seguiamo tutte le pratiche amministrative, comune e vigili del fuoco, fino al rilascio di autorizzazioni e certificati. Musica Musica